Oh mio Dio, cosa sta succedendo in quel di Milanello, quanti colpi di scena per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo questa sera e poi per favore faccio un appello alla società Mila, levate il microfono a Scaroni, non lo posso più sentire, non lo posso più sentire, proprio lo detesto ogni volta che prende parola, dice sempre le stesse cose a macchinette e poi dichiarazioni obiettivamente opinabili da parte sicuramente di tantissimi tifosi del Milan, compreso me, prima di iniziare però, pollice attenzione al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, tutto gratis, soffro io, raggiungiamo le 2000 capocce nel minor tempo possibile, detto questo, detto questo, allora iniziamo subito alle parole di Scaroni che come ogni volta che prende parola, dice sempre le stesse cose, non abbiamo potuto fare lo stadio a Milano, il sindaco ha perso una grande opportunità, verissimo poi cos'è che dice il Milan per necessità economiche e di tifo ogni anno come obiettivo minimo a quello di arrivare in Champions League, è già qui e poi cos'è che dice non è possibile vincere lo scudetto ogni anno, vero, per noi sarebbe un di più, che cazzo vuol dire un di più? che noi siamo tifosi della squadra più titolata, squadra italiana più titolata al mondo e io devo sentir dire che vincere lo scudetto sarebbe un di più poi verissimo, verissimo, non si può vincere ogni anno, oggi lo vinco io, domani lo vinci tu, domani quell'altro ancora, però ragazzi bastava fare una dichiarazione del tipo, è vero, non si può vincere lo scudetto ogni anno, vincere ogni anno lo scudetto è difficile ma noi vogliamo fare di tutto per riuscirci, già sarebbe stata un'altra dichiarazione ma che cosa vuol dire vincere lo scudetto per noi sarebbe un di più, porca di quella misera bruciate il microfono a Paolo Scaroni, si chiama Paolo, vabbè veramente, Stadionia, Stadionia detto questo, ragazzi colpo di scena incredibile quello che succederà stasera scenderà in campo il re di vivo, di nuovo lui, Yasin Adli, prenderà il posto in questo 4-2-3-1 perché sarà un 4-2-3-1 con Loftus-Cic in campo che farà il falso trequartista al posto di Krunic, che cosa sta succedendo, che cosa sta succedendo purtroppo ragazzi manca Musa, anche perché avrebbe giocato al posto di Krunic tutta la vita Musa anche perché siamo in Champions League, i ritmi sono dei Champions League il 4-2-3-1, i mediani devono essere non solo bravi in difesa, bravi a occupare il campo ma devono occupare tanto campo, devono essere molto box-to-box Adli non ha il passo per fare il box-to-box sarebbe stato meglio magari in altri contesti però ragazzi obiettivamente gioca a dire al posto di Krunic chi siamo noi per protestare, sono felicissimo sono felicissimo cioè preferisco essere eliminato con Adli in campo che con Krunic porca di quella miseria la formazione che scendere in campo sarà praticamente questa qui ma ne anni importa, sperando che non si infortuni nessuno da ora che sono le... sto girando il video ragazzi a Luna l'una, voi lo vedrete tra più o meno mezz'oretta ma andando in porta Teo Hernandez, Tomori, Ciao e Calabria centrocampo formato da Adli Reinders e Loftus-Chic che sarà un po' la mina vacante capace di trasformare il 4-2-3-1 in 4-3-3 a sinistra giocherà Pulisic, a destra giocherà Ciucu-Edge Ciucu mio, ti prego svegliati ti prego svegliati per chi ho estrema fiducia in te chi voglia un mondo di bene, per favore sbloccati stasera e fai godere come matti tutti i tifosi rossoneri e poi in avanti tornerà il buon Oliver Giroux che è l'unico modo che ha per riposarsi e farsi squalificare in campionato poverino poverino almeno arriverà dopo quasi una settimana perché se non sbaglio sì lui ha giocato non mi ricordo se è martedì o mercoledì l'ultima partita con la Francia quindi arriverà da quasi una settimana di recupero speriamo di ritrovarla in grande spolvero in panchina in attacco l'unico che avremo a disposizione sarà proprio Jovic perché purtroppo Okafor è rotto Leao non c'è Romero Andonelli sta Champions ragazzi miei Musa non c'è magari poteva essere uno che lo puoi mettere esterno d'attacco quando devi difenderti, devi soffrire io veramente non so cosa dire sì sì c'è Krunic che sicuramente giocherà esterno punta poi lo sappiamo come ragiona Pioli ragazzi una cosa che è una non voce che sta girando e obiettivamente la ritengo molto credibile la riportata su Miranello Martinelli persona che stimo tantissimo è che la società ha praticamente detto vi ricordate vi avevo riportato l'incontro settimana scorsa tra Furlani e Pioli questo incontro c'è stato non ovviamente non è stato reso pubblico ma l'oggetto dell'incontro pare sia stato proprio una richiesta specifica di Furlani e a Pioli ovvero cambia staff perché facciamo cagare questa è stata la richiesta Pioli capo supremo dio sceso in terra dell'area tecnica e ci colpa cardinale di questo perché va bene va bene responsabilizzare Pioli ma non fino a questo punto ragazzi neanche Conte è responsabilizzato fino a questo punto queste cose non le puoi fare avessi dimostrato grandi capacità manageriali in passato ma ragazzi farlo capo dell'area tecnica è un bel dito nel culo perché poi non puoi prendere e licenziare il suo staff quindi Pioli dicono avrebbe rifiutato categoricamente il cambio di staff conscio del fatto che stanno facendo di tutto per migliorare la situazione di infortuni stanno facendo di tutto da 4 anni se voi andate indietro nel tempo a cercare gli articoli sono 4 anni che noi leggiamo le dichiarazioni di Pioli con stanno apportando modifiche per migliorare gli infortuni ragazzi miei niente 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 detto questo io obiettivamente non so cosa dire non so cosa dire non so esattamente che pensare perché obiettivamente sono stanco 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 di questa situazione speriamo che in qualche modo sia la volta buona questa sera ragazzi si gioca la panchina ho letto molte battute da parte dei tifosi guarda caso quando si gioca la panchina lascia Krunic proprio in panchina obiettivamente ragazzi Krunic aveva fatto buone prestazioni all'inizio anno le 3-4 partite tranne quella con l'Inter aveva giocato bene aveva preso anche 7 mi ricordo di aver dato qualche set a Krunic però ragazzi conscio del fatto che non è il giocatore più adatto per giocare davanti alla difesa noi abbiamo bisogno di velocità di rapidità soprattutto di rapidità di pensiero per innescare i nostri esterni e metterli nelle migliori condizioni di puntare il diretto avversario cosa che Adli può fare puntualmente poi Adli ha un'altra migliaia di difetti in difesa non sarà perfetto ma almeno i campi di gioco di 40-50 metri li fa senza batter ciglio con molta 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 personalità ragazzo positivo ragazzo solare ragazzo che veramente si è calato a un momento esitato oppure lo scudetto del Milan in tutte le parti del corpo pur non giocando mai e secondo me è anche questa la chiave di volta lui non lo so ci sono tante voci che girano attorno Pioli è vero che si gioca la panchina dovessimo perdere oggi per me Pioli verrà esonerato di tronco dalla società perché la precedente partita con la Fiorentina non è arrivata per niente alla svolta perché una persona intelligente non guarda il risultato ma guarda la prestazione della squadra ed è stata indecente vergognosa indecorosa uno schifo perché io da milanista non sono a Juventino non applaudo quando la squadra vince 1-0 non superando il centrocampo io da milanista non solo non ho superato il centrocampo per 20 minuti ma sono stato preso a pisellate in faccia per 20 minuti alla Fiorentina i 20 minuti finali i 30 minuti finali ragazzi non siamo usciti dalla meta campo uno schifo uno schifo quindi speriamo che stasera ci sia la musichetta la Champions a risvegliare i nostri campioni l'ho detto io su chi punto e punto tutto sul Ser Ruben da Londra Loftus-Cic che spero possa prendere a pisellate il centrocampo come ha fatto con il Paris Saint-Germain detto questo vi ringrazio fatemi sapere cosa ne pensate di Adli titolare e soprattutto dell'incontro Furlani-Pioli e di tutto quello che sta succedendo in queste ore like al video iscriviti al canale non so se riuscirò a fare il video post partita stasera sicuramente lo farò però domani e magari integrerò pure le pagene vi ringrazio ancora grazie 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 e ci vediamo domani con un nuovo video bella raga